La Vipus Entera, presidente di Urippisci, presidente di Cepetio Giovanile e Scolastico della FGC e Umberto Caccagna, vicepresidente di carico della Federazione Italiana Gioco Calcio. Grazie a tutti i ragazzi della Vipus Entera e da questa sera si preciano del titolo di campioni d'Italia a del 16 Serie C. Un applauso anche alla Vipus Entera. Grazie a tutti i ragazzi. Grazie a tutti i ragazzi. Vipus Entera, campione d'Italia a del 16 Serie C. Grazie a tutti i ragazzi. Grazie a tutti i ragazzi.